amore noi siamo in la seconda battaglia di era la main alpame roma diciamo a me ne ha dato un'intera ci spostiamo tutti trantrano conti il servizio il servizio coca è un bel indietro come tutti ho sbagliato qualcosa non lo so cosa prenderemo a spostoso ma dove spugnano ragazzi eeeh facciamo punto 3 il campo non c'è bocca del tuo primo tra ragazzo scusate che tranqui tranqui è impegnato a fare dell'alto bravissimi usate la tradizione italiana che mi sono fatto il culo per farlo ma cosa attenzione al riquadro disegnato non lo faccio io ah ecco che va bene io gli ho tradotto le stringhe come dovrebbero dirlo porca miseria perché il vocale veramente no davvero comunque il vocale italiano preferivo quello originale eh vabbè il vocale italiano non so chi cazzo sia il doppiatore guarda lo faranno anche per le navide tipo oh mio dio eh no ma sono sempre loro non possono cambiare no vabbè prego ci darà a essere qualcosa tipo una modda che mette le voci anche non in italiano perché preferisco tipo ivo da palma pulmine di pegasus pulmine di pegasus però ci starebbe ovviamente con i soviet perché altrimenti allora ditemi ma voi state giocando in ultra low o in film no io sto giocando in normale ci ho contato le mie 11 lord 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 ce ne sono due lo vedo lo vedo c'ho la torretta che ci mette qualche tranquillo tranquillo ci provo io allora io ho paura di un T-44 e un T-44 un S-2 che cos'è? allora quello di sinistra gunner andato commander e cannon breach l'altro ha attraversato ha attraversato ok tra un pochetto in pratica ci ritroviamo sopra ok l'altro fatto gunner commander e cannon breach io vi copro l'entrata da questa parte invece io provo ad andare un attimo in collina per vedere se riesco a fotterli tu bisogna stare attenti sulla destra ok sta arrivando lentamente attento perché il l'IS si sta spostando dove? ok si è si è ritirato frog occhio eh no integro come ho fatto a fare integro ritirati ritirati non star lì secondo integro ma ti pare possibile? ragazzi ho ucciso due persone non so come ma va bene hai fatto una cosa magnifica guarda S-2 sono la pantera che mi si è bagnata io non so come ho fatto ho ucciso due persone con un colpo con un colpo si l'ho appena visto erano a fianco uno a fianco all'altro hai detonato la stiva munizione dell'IS-2 che ha detonato non lo so ma io ho sparato a quello dietro e prima di sparargli mi aveva detto ground unit destroyed ho detto boh vabbè c'è quello che probabilmente sei iettato prima hai qualcuno dietro beta? ho visto nella mappa qualcuno che mi stava arrivando da dietro vengo a darti una mano beta no 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 capirà c'ho un tiger 2p che mi sta coprendo il culo ok allora niente è nostra è nostra no la non è nostra è tutta una cazzata Stefano occhio perché di là c'è l'entrata del loro spawn point vai vai copro io vado di qua va 2x ghost ragazzi domani inizio alle 5 quindi vado ok Emanuele grazie per essere passato buonanotte buon riposo buon lavoro domani vado a detonare qualcuno che ci riesco ok ho un bel tracciante sembra eh ma a metà che ah eccolo vai vai blu oh maastra quanto adoro il kv2 quando spara è un t3 bella frog bella eh ci vuole il panther per ammazzare il t3 eh ma io c'ho un carro di stalinium dovrei averlo shootato ah 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 il carro di stalinium eh purtroppo che stalinium non sa nulla non ce la fa a uccidere un suo alleato eh no 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 si rifiuta si rifiuta dicendo no l'ho glissato ma c'è un altro si c'è un altro qui a sinistra un is forse l'ha fatto fuori frog è morto questo di sinistra è fatto fuori vado a sparargli ecco bug a volte la testa io vado dritti ragazzi no ci stanno prendendo c ci arrivano facciamo il giro 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 torna alla fine prendiamo qui c'è uno rimane qua e guarda giù la strada l'altro guarda lo spawn ci stanno al Vibervin Tiger 2 che guarda lo spawn ok è per non essere presi da dietro era giusto per non essere sorpresi da alcuni si si c'è ragione poco qui dalla strada di destra più che altro eh è quello il problema eh appunto vado io adesso thanks aereo mamma mia ci è passato sopra la crappa un aereo eh ma ha bombardato subito arrivo a darti supporto frog si si tranquillanto il su è distratto c'è un su 85 credo eh eccolo lì morto bellissimo vaffanpolle non ho fatto una sega benvenuto nel club eh ho sparato un colpo pure di ingaro vaffanpolle ragazzi qualcuno va a prendere Dino in frattempo io prendo qua la allora si vado io vado io vado io vado io bomba no puntano solo in Narshorn ragazzi smettete di usarli Narshorn perché sono davvero una calamita per bombe forzò mi rimane quello mi rimane quello appena posso arrivo io beta mi hanno colpito eh ma è l'effetto delle anti aeree essendo overpowered come occhio dietro eh frog hai visto che c'è un contatto avevo distrutto il pt76 è già morto allora io vado verso costi e ci si con prenderci la p ragazzi dobbiamo riprenderci ciò che è nostro 5 secondi ma ieri c'è più uno non ne vedo più male non ce ne sono tre quanto ho fatto di punti niente zero strano hai preso i punti per essere ti mosso dai 180 punti c'è e quelli per esserti spostato da un punto all'altro è stato spawnato va bene no no m56 di merda no 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 ragazzi qualcuno mi deve aiutare questo m56 di merda e anche no no ragazzi no c'è anche il carretto leggero quello del cazzo critico gli ho fatto il motore frog 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 sparagli spara l'incontro per farmi vedere dov'è sto sparando assolo lo incollo un attimo riesco di ribaltarlo non lo so che cazzo posso fare e non senti i colpi ragazzi non so che cazzo fa sparo aria commander orisontal tour drive andata ragazzi non sente il colpo quarto colpo che gli sparo in pieno gunner andato l'ho ucciso il gunner e ma sparo uguale distrutto cioè mi ha sparato comunque come della serie non si fa niente ma siamo overtear in una maniera sublucinante o sbaglio? eh sì sì quella è colpa mia come al solito purtroppo perché? perché così io combatto solo overtear mi dispiace ah tu sei la colpa dell'overtear prendetelo a sassate ci dice Kyle eh beh girategli la cacca ok allora io posso essere a posto stasera ahahahah vai 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 tigrino tigretto dai ci sono due aerei sicuri in volo nemici ci sono due aerei sicuri in volo nemici eh mi hanno preso da dietro oh mangio c'è ragazzi quel cazzo di T-92 non sentivo i colpi a brucia pelo stavo attaccato con la canna di frente in faccia al suo comandante ma c'è 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 un unidre qui ma porca puttana ma voi li mettete a guardare su? eh no c'è un contatto qui ragazzi occhio guarda c'è l'F8 che adesso viene abombrata non sta dentro quello mi ha fatto secco allora io c'ho quattro bombe da mille chi le vuole? io sono a posto per il momento frog era per sapere se asservano in testa qualcuno di nemico prossimamente guarda se vai verso l'A magari c'è qualcuno sicuramente ma vaffanculo sto cazzo di gatto birra eh di che? un bircat il bircat il gatto bir ragazzi c'è un cazzo da fare non c'è un cazzo da fare levategli lì levategli lì io non ne posso più deve unità della seconda guerra mondiale che combattono contro roba della guerra in corea mi avete cagato il cazzo eh oh altrimenti dopo non ci sarebbe ciao edoardo c'è uno che venire di che non potete mettere un cazzo di p51 perché io sto con 5.7 combatto contro 6.7 e già me l'ho detto uno si è schiantato da solo ma le antiaeree che cosa cavolo stanno facendo se posso saperlo eh sono su new porn ma stanno facendo le pitte le pignettine ah 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 ahhuh legge 1989 m41 Walker Bulldog ah 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 quello che ho ucciso me è quello che ha ammazzata me ah 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 Io comunque capisco che voi dite che gli aeroplani non esistono, però davvero non li ho visto prendere nessun aereo. Sarebbe utile ogni tanto. Quello sicuramente. Io li prendo quando fosse. Non sei troppo dritto, Toz. Ha un senso, eh? Ah, Dio. Eh, ma muori? Grazie, l'anti-aere ha colpito meno l'avversario. Sparano ai carri come al solito le ant-aere, eh, lo so. No, no, hanno colpito meno. Questa è la cosa. Paranormale. Quando lo sparo nei casi. No, sì, che comunque, Frog, non possono mica mischiare. Cioè, non possono mica rendere univoche le... Sì, vi conviene. Io adesso sto facendo la partita noiosa di andare avanti e indietro fra i punti. E' esploso. E' esploso. E' esploso. E' esploso da un F8. E' detonato. E' pure che sparo contro un cazzo di F8 immortale. Eh, sì, ho sentito dello schianto della notte in Brasile. Una brutta roba. Brutta tragedia, tra le altre cose. Eh, è volato giù un aereo con una squadra di calcio intera a bordo. 75 persone morte. No, no, adesso è 67. Sono morti altri due, madonna. Io da quello che avevo sentito sì. Era un morto... Forse era... C'era gravato il motore ed era morto. Lei, il FNAC da tifoso del Torino, si sentirà vicino a questa squadra più di molti altri. Io fa. Tra l'altro non è possibile, dai. No, ma il fatto è che adesso devono capire che cosa cavolo è successo. Perché a quanto pare l'aereo non aveva quasi più carburante a bordo. Praticamente l'aereo aveva una... Anomalia elettrica. Non era un'anomalia. Aveva il carburante giusto per arrivare all'aeroporto. Giusto, anzi, e probabilmente sforava pure. E infatti, quando hai precipitato l'aereo, aveva già superato di 5 km il massimo di autonomia dell'aereo. Cos, se tu prendi C, io provo a tenerci la B. Ok. Io sto provando a prender C. Perché... Sono tornato indietro apposta per C, tanto dopo lo sapevo che andavano a prender B, eh. Occhio, vedo qualcuno. Sì, ma l'hanno appena ucciso. Era un Jackson. Era un Jackson 5? Sì. Era uno del primo gruppo di... Di Michael Jackson. No, Michael Jordan. No. Michael Jordan. C'è qualcun altro qui intorno, eh. Mi hanno appena lanciato un'artiglieria. Eh, mi facevamo lanciare l'artiglieri perché non c'è da capare. Ah, no, vabbè. A me c'è da capare. A destra. No, è l'artiglieria. No, no, no. Oh, sì. Ho visto un flash, ragazzi. Hai avuto un culo del colpo d'artiglieria. Sto arrivando un altro flash. Ho visto un flash, ma adesso con lo spot. C'è Enrico Shea. Cazzarola, aiuto. Enrico Shea, raga, non è colpa sua. Bella, grazie. Ah, no. Squadmaster Tone. Eh, sì. Il Panther. Panther 2. Tanto per essere... Panther 2. Il Panther 2. Il Panther 2, allora. Ok, puoi anche uscire dal civino. Eh, no. Sto riparando, sto ricaricando un attimo. E poi avete visto che hanno aggiunto l'effetto grafico finalmente, dopo anni, dei buchi. Sì. Sì, era ora, Carlo. Finalmente. E poi in realtà l'effetto dei buchi, all'inizio del gioco c'erano. Ma che cazzo... No, erano buggati, però. No, raga, io giuro, non ne posso più. Sto sparando aria. Sto sparando aria. E beh, è un po' come me col T-34-85 prima. Comunque, ragazzi, sì, è una cosa brutta. D'altronde, però, questo è quello che ci permette la tecnologia moderna. Vedere anche gli ultimi attimi di persone. No, cazzo, stavo arrivando a darti una mano. Funtana, questo cazzo di M-41. Gli ho sparato tre volte colpito solo la cazzo di aria. E gli ho fatto il tre che basta, se vuoi saperlo. No, e avvicinati alla corazza dell'altro Tiger. Eh, pensavo fosse... non ci fosse più. Stavo guardando in visuale cannone. Non ne posso più, non ne posso chiudere colpito in aria. Non è possibile, che cazzo c'hanno sti giocatori? Gli ha fatto fuori il driver? No, track. Ma adesso è finita. No, non è finita. Perché non è finita, non è finita. Finalmente, finalmente, abbiamo fatto gol. Finalmente abbiamo fatto gol. Finalmente. Finalmente, mamma mia. Mamma mia, finalmente. Finalmente abbiamo fatto... Scusate, mi muto. Mi sto andando verso B, eh. Maxi Lopez. Ragazzi, Maxi Lopez. Ho fatto gol. Mi sento male. Ma con chi giocava? Stavamo giocando in Coppa Italia col Pisa. Stavamo pure per perdere, prima. Stavamo pure per perdere. Ah, calcio, il male dell'Italia. Vaffanculo a tutti, va. Mi faccio una guerra. L'unica cosa che conta è la nazionale. Tutto il resto non serve. Tutto il resto c'è maschio. È noia. Per rugby. Ecco, il rugby è molto bello, sì. Tra l'altra cosa ho pure scoperto che qua a Cremona ha appena aperto una squadra di football americano e la cosa mi sta facendo saltare i fusibili. Ma il football americano non lo capisco. È il rugby semplificato. Sì. Rugby for da massimo. Sì, esatto. Sanno catturando uccide. Eh, io non posso essere ovunque, ahimè. Ovvio. Non so se il FV 190 fa pulizia aerea, no? Che cavolo. È abbastanza salame, eh. Boom. Ti sta facendo piombare dall'antiaerea. Oh, perfetto. È un business da decenni, Edoardo. Però è come viene affrontato da tutti che è la cosa che mi dà pesantemente fastidio. No, questo cazzo di carretti di merda. È di nuovo con l'M41, ragazzi. Io non so più come affrontarlo perché sto XKBX è inaffrontabile. Io ve lo giuro. Spari all'aria. Non è che c'è un'altra cheat. No, 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 no. È impossibile che ci siano dei cheat. Non è che c'è un'altra cheat della coratta, mi dispiace. Ok, fortuna da mia. Quindi no. No, 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 no. Non dirmi che mi sono incastrato col tigre perché non ci credo. Goal. Vai retro marcia. Mi sono incastrato col tigre. Mi sono incastrato col tigre. Cioè, ragazzi, XKBX ha fatto 5 uccisioni e 0 morti. Ok, non è morto mai. Beh, perfetto, signori. Volete fare altre partite? Questa non mi guarda. Ok, abbiamo finito, dai. Adesso ci siamo. Io mi metto pronto. Magari stavolta capitiamo migliore con il battle rating. Allora, serve... Molto meglio il rugby. Lo faccio da quando avevo 7 anni. Questi cazzi. È bello. Io ho fatto baseball. Baseball.